Ecco la fine che ho fatto fare a Gian, morto, morto, sta finito, sta finito, buondi, volete sapere l'ultima, il 2 ottobre ho comprato dei costumi fighissimi su un sito per Halloween e non mi siamo arrivati, sono rimasti fermi in dogana, quindi io adesso devo improvvisare un video reel truccandomi da sola e prendendo un vestito a caso. Ce la farò, pubblicare un video di questo genere entro oggi, tutti a me. Oh povera Antonella, ma io sono sicura saprà rimediare per una ragazza molto sveglia, invece la nostra Anita Olivieri si fa il suo morning vlog, e invece lei i suoi costumi li ha ricevuti, ovviamente tutto free per questa bellissima ragazza, guardate che belli che sono, in realtà non è un costume ma è un set, sono dei set sportivi, a parte che Anita, cioè, si è risaputo che ha fatto un set. Con un sacco di plastica sta bene, e chiudiamo con qualche fotina del giorno, al prossimo video, ciao!